Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Questo video è di denuncia, un fatto vero ma sconvolgente. Questo video racconta un fatto raccapricciante senza precedenti nella storia dell'umanità. Rivolto a tutti i giornalisti delle tv, stampa, dobbiamo fare più rumori possibile. È un fatto veramente raccapricciante. Se conoscete un giornalista raccontatevi la storia, telefonate subito, è urgentissimo. Abbiamo le prove e tutta la documentazione che serve, le prove. Abbiamo, ripeto, tutto quello che stiamo per dire. Per contattarci 347, chiamateci subito, urgentissimo, per contattarci 347 35 69 077, ripeto, 347 35 69 077, oppure norma, oppure Rosario Scorpiniti 366 80 29 155, Rosario Scorpiniti 366 80 29 155, norma Autiero 347 35 69 077. Questo fatto avviene a Roma, quindi siamo vicinissimi. Adesso vi racconto la storia. Ci sono degli anziani, milionari, che vengono interdetti con perizie false dai figli, che sono dei familiari avidi, quindi vengono interdetti con perizie false, inchiusi a lunga decenza in cliniche psichiatriche, lager, lager, sapete che significa lager? Con dei campi di concentramento. Vengono inchiusi, danno loro dei farmaci per non farli parlare, dei farmaci orribili per ridurli come larve su una sedia d'hotel, lasciati morire così fino all'ultimo, in questo modo orribile, per rubare loro case e soldi. Questa clinica si chiama Donorione ed è una clinica che appartiene ai preti. È una clinica Donorione che è una clinica orribile. I preti sono tutti corrotti anche loro. I familiari avidi corrobano tutti. Sono agganciati con giudici, medici, avvocati, tutti corrotti. C'è un sistema giuridico tutto corrotto della Roma bene. Abbiamo le prove, tutta la documentazione che serve. Abbiamo, ripeto, le prove, tutta la documentazione che serve, chiamateci subito urgentissimissimo. È urgentissimo, è un fatto vero, ma è un accapacciante. Dobbiamo ottengarci all'infinito, fare i più rumori possibile con la stampa, i media, la tv, vi prego giornalisti. Allora, questi sono giudici, medici, avvocati, tutti corrotti dai familiari avidi. Quando muore uno di questi vecchietti, moltissimi sono morti, altri stanno morento, coprono tutto e la fanno passare per una morte naturale. In realtà sono morti in questo modo orribile e coprono tutto. Sono agganciati tutti i potenti giudici, medici, avvocati con i familiari avidi e poi insappiano tutte le denunce che facciamo da anni. Tutte le denunce che da anni le insappiano. Se uscisse fuori questa storia, andrebbero in carriera vita, si intagherebbero, si intagherebbero quindi dobbiamo fare i più rumori possibile con i media, le tv e cercare di porre fine a questa tragedia, una tragedia senza precedenti nella storia nell'umanità perché è veramente un fatto orribile, disgustoso, era capricciante, ci siamo capiti. C'è una donna anziana, uno di questi vecchietti che si chiama Anna Iole Raganelli, ricordate questo nome? Anna Iole Raganelli che è uno di questi vecchietti, la figlia buona, la figlia cattiva, cattivissima, diabolica, Gabriella, l'ha interdetta con perizie false, rinchiusa in questa clinica Lager, la donna Rione, le ha fatto dare dei farmaci per non farla parlare, ridotta su una sedia d'hotel e l'ha fatta morire, in questo modo orribile, per rubare le case e soldi, è orribile, disgustoso. La figlia buona, Norma Othiero, che è una donna straordinaria, sta lottando da anni per fare giustizia, ma non ce la fate il tutto perché ha bisogno di voi, giornalisti per dare la notizia, giornali, tv, programmi di cronaca, quarto grado, pomeriggio 5, le vite in diretta, eccetera, fare l'agonia mediatica, ci vuole parlarne dappertutto, fare il più domani possibile per mandare in galera questi cattivi, è urgentissimo, chiamateci subito, abbiamo bisogno del vostro aiuto, è un fatto veramente vero, 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 ma raccapricciante, senza precedenti della storia dell'umanità, facciamo giustizia, chiamate Norma Othiero, abbiamo le prove, tutta la documentazione di quello che sto dicendo, abbiamo le prove, stiamo a Roma, stiamo vicinissimi, giornalisti aiutateci, contattateci, vi prego, YouTube può essere un mezzo molto potente se usato a fin di bene, e questo è a fin di bene, quindi veramente abbiamo bisogno del vostro aiuto, stiamo a Roma, è urgentissimo, abbiamo le prove, questo video è rivolto a tutti i giornalisti, contattate, chiamateci, è urgentissimo, chiamate Norma Othiero, attenzione, chiamate Norma Othiero 347 35 69 077, ripeto, 347 35 69 077, oppure 366 80 29 155 Rosario Scorpiniti, ripeto, 366 80 29 155 Rosario Scorpiniti, aiutateci, facciamo giustizia, abbiamo le prove, tutta la documentazione, tutto quello che ho detto, facciamo giustizia, chiamate Norma Othiero, è urgentissimo, chiamatela subito 347 35 69 077, 37 70 70 077, ok, 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 ok